Conto alla rovescia per il prestigioso Vinitalian City in Calabria, l'evento che per la prima volta nella sua storia oltrepassa i confini della città di Verona, approdando nello scenario del Parco archeologico di Sibari. Svolgerà laddove tutto è cominciato, presso questo meraviglioso parco archeologico, dove ci sono le antiche rovine della Sibari leggendaria, la Sibari del lusso, la Sibari del buon vivere, laddove probabilmente gli antichi Sibariti circa 3.000 anni fa consumavano il vino che veniva prodotto sulle colline della terra di Enotria che riuscivano a trasportare attraverso i nodotti. E laddove tutto è cominciato noi vogliamo ricominciare la storia di una viticoltura calabrese che in questi anni è cresciuta tantissimo in termini di qualità. Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre la Calabria, in particolare i Sibari, diventeranno la patria dell'enologia grazie alla collaborazione tra Regione Calabria, Verona Fiere, S.P.A. e i parchi archeologici di Crotone e Sibari. Una Calabria che deve essere protagonista, una Calabria che deve presentarsi con l'abito migliore, una Calabria che può e deve dimostrare come anche queste manifestazioni siano alla portata della Calabria dei Calabresi. L'ARSAC, azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese, si sta occupando dell'aspetto organizzativo e ha messo in campo una serie di iniziative per permettere ai visitatori di raggiungere facilmente il parco archeologico e vivere al meglio la propria esperienza al Vinitalian City. In tanti stanno lavorando durante questo caldo mese di agosto per fare in modo che la manifestazione si svolga al meglio. Sono convinto che tutto andrà bene ma sono soprattutto convinto che la Calabria ancora una volta sarà terra straordinaria di grande attrattività e di grande curiosità. I visitatori potranno accedere al parco archeologico di Sibari soltanto per mezzo del servizio navetta gratuito. Non si potrà accedere con veicoli privati. Nei tre giorni dell'evento l'apertura al pubblico è fissata dalle 18.30 alle 24, mentre le corse delle navette avranno inizio dalle 18 con passaggio ogni quarto d'ora.